ciao amici benvenuti in un nuovo video siamo in una nuova location per iniziare questo video visto che ormai il nostro canale di viaggi si sentite la voce un po così perché ci siamo svegliati da poco e siamo in sardegna a precisamente nel golfo di marinella siamo arrivati in realtà solo che ci sono stati un po di disguidi traghetto in ritardo quindi siamo partiti tardi ieri sera poi abbiamo fatto appunto la notte in traghetto quindi non abbiamo filmato comunque in questi giorni vi porteremo con noi pomeriggio quando torniamo magari che la camera sarà sistemata con il letto fatto e faremo comunque un tour questa comunque è la situazione di questa mattina la vista della nostra finestra mare dall'altra parte ma che mi piace da dentro saluta mortorio si buttiamo si chiama di sushi quella con la camera dei bts sono quella con la camera dei bts noi siamo delle vere baluche di milano e siamo qui in sardegna ciao amici porto motori siamo a porto rotondo abbiamo fatto sosta caffè e gelato qui c'è maddi sushi qui c'è porto rotondo ciao amici siamo tornati da questa giornata signora ha appena detto non stiamo vloggando una m***a comunque è vero cioè oggi è già tipo il quinto giorno che siamo qua e beh potete vedere dall'abbronzatura e dalle scottature però tutti i giorni la vita è quella usciamo in gommone e passiamo al bagno quindi c'è un po' monotono non è come il vlog di cliente quindi che visitiamo la città vabbè magari oggi metteremo qualche ripresa sottopra clip del mare siamo qui nella hall dell'hotel cioè nei divanti cuori e stiamo aspettando di uscire in gommone aspettiamo gli altri questa è la zona relax e lì c'è la piscina ma non si vede da questa ripresa siamo alle piscine di molara molara e qui c'è la margherala stiamo uscendo noi due sono le cinque abbiamo lasciato il resto della famiglia stiamo andando a farci un giro noi due scusate la mia bandana tremenda se no mi brucio la riga dei capelli qua c'è il marinaio questo è il mezzo 200 cavalli una scia pazzesca ma ora stiamo uscendo dal porto quindi andiamo piano no più che marinaio comandante guardate che spettacolo questo è il volfo di marinella il volfo di marinella è il volfo di marinella questo è il volo di ATTRA questa è il volo di rafferci c'è la volo di mediterranea questo.. è il volo di avanti l'alto nel volo di rafferci e ora ci tufferemo questa è la situazione come? no, non mi spin amore mi incazzo, ti prego vieni là c'è il mio uomo che fa la torre ti tuffo vai ciao amici siamo sul retro dell'isola di Mortorio luogo poco frequentato e poco conosciuto infatti ci sono pochissime barche l'acqua è bellissima uno spettacolo ora filmeremo il tuffo meraviglia siamo arrivata vincitrice abbandonata da tutti ma bellissimo quello è il nostro gommone guardate che bello questo angolino vieni ci sono i miei piedi ci sono i miei piedi ci sono i miei piedi buongiorno amici aggiornamenti al 17 di agosto purtroppo abbiamo subito due disavventure ieri la prima entrambe in realtà non a causa nostra ovvero una si è alzato il vento il maestrale quindi sarebbe stato impossibile uscire in barca in gommone sia ieri che oggi che domani seconda disavventura ieri in porto mentre uscivamo non a causa nostra ci si è rotta la ma no quello si chiama come si chiama la mano l'invertitore quello comunque del cambio automatico ma quale cambio automatico del cambio perché ho detto automatico quindi un cambio di invertitore l'abbiamo presa lì dietro quindi non lo so i video in mare probabilmente sono terminati e oggi in realtà non sappiamo ancora cosa faremo visto che c'è il maestrale andremo a fare un giro da qualche parte e basta siamo in traghetto vi ritorno la vacanza è finita